ciao a tutti sono Eleonora e vi do il benvenuto nella mia cucina oggi andremo a preparare una torta fredda è una sbriciolata di crema di latte con fragole adesso vado a elencarvi gli ingredienti che ci serviranno ci serviranno dei biscotti secchi del latte condensato delle fragole del burro e della panna da montare andiamo con la preparazione versiamo i biscotti una volta che ho tritato i biscotti li ho messi in una ciotola adesso verso il nostro burro a temperatura ambiente e lo mescolo i biscotti una volta che abbiamo ben amalgamato i nostri biscotti con il burro adesso li mettiamo uno stampa a cerniera ne versiamo più della metà aiutandoci con un cucchiaio adesso riponiamo in freezer il nostro composto a rassodare per 30 minuti mettiamo in frigo l'altro composto di biscotti che ci è rimasto intanto che la base si rassoda in freezer prepariamo la crema di latte in una ciotola versiamo la panna fredda da fritto e montiamo dopo versiamo a filo il latte condensato continuando a montare ho ripreso la mia base dal freezer adesso ci verso sopra la nostra crema tiriamo le fragole e le tagliamo a pezzettini in questo modo ho ripreso l'altra parte dei composto di biscotti e lo sbriciolo sopra in questo modo ho ripreso l'altra parte dei composto di biscotti e lo sbriciolo sopra in questo modo il nostro dolce è pronto adesso lo riponiamo in frigo fino all'ora di servire ecco la nostra torta adesso la decoriamo con dello zucchero a velo e decoriamo il centro con questa bella rosa di fragola grazie a tutti